E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come ho ritenuto dal titolo andremo a giocare con i frammenti di Galanor Premetto subito che questo video è decisamente diverso da quelle che facciamo di solito Infatti non è un video registratto né programmato Ma è semplicemente una partita in cui io ed Altair abbiamo giocato in crogiolo utilizzando i frammenti di Galanor E è successo qualcosa di veramente assurdo Per chi non lo sapesse il parco esotico dei frammenti di Galanor che sono delle braccia esotiche per il cacciatore Ci permette di recuperare l'energia della super facendo uccisioni con lo sbarramento Per intenderci facendo una tribla di sbarramento teoricamente dovremmo riottenere la super Ma comunque adesso lo vedrete in video Prima di iniziare vi chiedo subito di supportare questo tipo di video se vi piace Di scriverci qua sotto nei commenti se preferite questa tipologia a quelli normali E dato questo direi che potete anche godervi il video Andiamo Come esattamente utilizza la bovina in quick play E poi la usi anche tu di solito Io in cui non la uso solamente il competitive se stiamo perdendo tanto Sì vabbè qualcun altro voleva venire in faccia in 4 All'interno che ti viene in faccia è dovuto dire comunque E' vero E' vero E' a posto di headshot cam shot Mi ha spaccato uno con il cannon a trazione Perché mi rimbalzano aiuto perché mi rimbalzano i colpi di zerazione migliore Mi grazie Quando c'è il caricatore pieno Puoi sparare tipo un colpo gigantissimo Aspetta Che fa un botto di danno Io mi sono fatto una tipa in mille voci E' ovviamente tanto che non mi carica la skin Vedevo vai presente quando venite asparenti il compagno o qualcuno Uguale Quanto super mi recupera Oddio di un volo super Vedi Oh vedi Ogni tanto funziona Ogni tanto no Adesso ce l'ho GG E' stato stupendo Anche tu adesso adesso ci vai Crepa Crepa mica invece di saltà Ok adesso ce l'ho GG Aspetta 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 Fammi lo ferme No questo me l'ha preso Abbiamo fatto uno Mi ha dato più di mezza super Facendone uno Aspetta che mo' me la faccio Un'altra sfera di luce No no Dov'è Ho un'altra super Ho un'altra super Mi serve un'altra sfera di luce Mi serve un'altra sfera di luce Andiamo in giro attaccati E continuiamo a fare questa cosa Vado io vado io No Ma merda L'uso il metà L'uso il metà L'uomo fatti due L'uomo fatti due Va benissimo E' la cosa più di mezza che abbiamo fatto Mi serve un'altra sfera di luce Ne voglio più Eccole Eccola super un'altra volta E' la quarta E' la sua volta Non ci credo Mi sento un bambino Io me la uso sul primo camion Guarda altri tre Non ci credo Mi sono fatti Non ci credo No mi serve un'altra No io sono a munizione di serve adesso No no aspetta Mi sono fatto Raga non trovo le persone per fargli lo sbarramento E' incredibile No non puoi capire Sto andando avanti a sfuglia di tre kill Non ti giuro Sto facendo solo stare da tre Altre No non mi ha rubato il tipo Mi ha rubato Ma vabbè La prende un po' le sfuglie che stanno in giro Come li faccio da tutto No stai sto facendo Fai un attimo Mi sento in serie Non killai Dov'è essere Cazzo Dov'è essere 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 No sono un momento In commentary Eh non lo so Adesso vedo Sono anche 18 Qualcos'è del genere No comunque Stava avanti Stava di FD Certo Io a flip adesso Questo qua è stato Uno spam di super Ma io non ho fatto Ma io lo facevo E' un altro super in tutto ciò Vabbè Vabbè Alta Cosa Cosa Ti ho Ti ho Ti ho Ti ho Ti ho Ti si Beh Ti ho 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 Amir.